Rapina in farmacia a Stiava, il malvivente, pistola in pugno, ripreso però da una telecamera di sicurezza. Altri 9 comuni accoglieranno i profughi attualmente ospitati al centro della Croce Rossa, tra questi anche il comune di Viareggio. Complessivamente se ne andranno da Lucca 70 richiedenti asilo. Un concorso di idee per rinnovare il centro di Capannori, mercoledì sera un convegno ad Artè ha segnato l'inizio della seconda fase del progetto. Tornano a nascere i funghi grifoni, eccezionale raccolto del pregiato fungo in Garfagnana, vi spieghiamo anche come si può cucinare. Benvenga a Nì, Mori no a Macerata, probabile il rientro del laterale destro, mentre sditta il debutto del difensore centrale nella lucchese che sabato affronterà la maceratese in trasferda. Sette anni con la finale Oro all'Odi nel 2008, la Virtus Lucca entrava per la prima volta nel gota dell'atletica leggera italiana. A tutti voi la più cordiale buonasera, ben ritrovati per questa edizione del TGNOE che dunque apriamo con la cronaca, con la rapina in farmacia che si è consumata questa sera a Stiava. I particolari nel servizio. Pistola alla mano, con il casco ancora in testa, è entrato alla farmacia Signorini di Stiava poco prima dell'ora di chiusura e si è fatto consegnare l'incasso della giornata. Le immagini del sistema di videosorveglianza pubblicate dal quotidiano Il Tirreno mostrano l'irruzione del soggetto, ancora non identificato, con il volto coperto. Armato di pistola, poi rivelatasi giocattolo, l'uomo ha prima scaraventato a terra un cliente, l'unico presente, e poi ha minacciato con l'arma il titolare e i due collaboratori per arrivare a svaliggiare la cassa. E' entrato in farmacia, ci ha minacciato con un'arma carica, presumibilmente perché aveva il cane alzato e ha prelevato tutto l'incasso della sera. Sottolineatamente non c'erano i pezzi grossi perché avevo già tolto dalla cassa, insomma più che altro è stato non tanto il danno economico, ma anche la paura. Magro il bottino, appena 600 euro, l'uomo si è subito dato la fuga in scooter. Per risalire all'identità del malvivente, le immagini a circuito chiuso sono adesso al vaglio della polizia, polizia che i titolari hanno fatto fatica a contattare. La dottoressa è uscita dalla porta di sicurezza, abbiamo un magazzino, ha chiamato con il cellulare e la forza pubblica, ma è stata agganciata la cella di Arezzo addirittura, dal 112 al 113 dicendo che doveva fare una chiamata addirittura con un telefono fisso e con il cellulare non era ammessa. Questa è una cosa abbastanza curiosa perché mentre che lei telefonava il rapinatore era sempre dentro la farmacia. Ancora la cronaca, un incendio si è sviluppato nel cortile di un supermercato chiuso in via Fratelli Rosselli a Lido dietro la Croce Verde. A fuoco sono andati dei pancali di legno, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Diverse le piste per stabilire le origini dell'incendio, tra queste anche quelle del Dolo. E' morto questo pomeriggio all'ospedale Versilia l'arcivescovo emerito Bruno Tommasi, nel servizio Un nostro ricordo di Tommasi. Se n'è andato il vescovo emerito Bruno Tommasi, ispirato all'ospedale Versilia dove era ricoverato a causa delle sue condizioni di salute peggiorate negli ultimi tempi. Tommasi era nato a Montignoso nel 1930, aveva compiuto gli studi nel seminario arcivescovile di Lucca e nel 1958 era stato ordinato presbitero dall'arcivescovo Antonio Torrini. Ha ricoperto gli incarichi di direttore spirituale, poi rettore del seminario di Lucca, nonché priore della parrocchia di Sant'Anna fino al 1983, anno in cui Giovanni Paolo II lo nominò vescovo di Pontremoli. Il 20 marzo 1991 ancora Papa Voitiva lo nomina arcivescovo di Lucca. Rimarrà alla guida della chiesa lucchese fino al 2005, gli ultimi due anni insieme all'attuale arcivescovo e suo successore, Monsignor Italo Castellani. Don Bruno è stato anche un grande amico della nostra emittente, che ha ospitato per anni i suoi interventi nella rubrica Parla al Vescovo ed è stato soprattutto benvoluto da tutti i lucchesi. 70 profughi saranno trasferiti dal campo delle Tagliate. È iniziata la fase di alleggerimento del campo di accoglienza per migranti di Via delle Tagliate, con il trasferimento di 70 ospiti in strutture comunali sparse in tutta la provincia. La prefettura, come preannunciato nei giorni scorsi, ha coinvolto la quasi totalità dei comuni, trovando anche grazie all'ausilio della diocesi di Lucca, 70 posti letto, riuscendo a coinvolgere anche numerosi comuni versilesi, che in un primo tempo erano stati accusati di scarsa collaborazione rispetto al tema dell'accoglienza. La novità io direi che sta nei comuni della Versilia, che attraverso un dialogo diretto con i sindaci, ai quali io ho consigliato di portare all'attenzione del Consiglio Comunale, che comunque vada poi il risultato di accogliere o meno questa volontà di accogliere i migranti. E penso che sia stato vincente, perché comuni come Via Reggio, Camaiore, Seravezza e anche Forte dei Marmi, e proprio di queste ore è la notizia concreta che a giorni ospiteranno i migranti. Le nuove disponibilità riguardano i comuni di Barga, con 12 posti, Camaiore con 8, Capannori con 5, Massarosa con 11, Pieve Fosciana con 6, così come Porcari. Seguono Vagli di Sotto con 8 posti e Forte dei Marmi e Via Reggio con 10. Restano ancora da sciogliere i nodi dei comuni che ancora non hanno dato disponibilità di posti, primi tra tutti Alto Pascio, Monte Carlo e Pietrasanta, e per i quali la Prefettura sta ancora mediando, per riuscire a riportare la struttura di Via delle Tagliate ad un massimo di 60 persone, smistabili in pochi giorni. Sullo spostamento del mercato settimanale di Lucca da Via dei Bacchettoni alle Tagliate ci sono due interventi. Il primo è dell'Anva, scusate, Confesercenti, che valuta positivamente la decisione del Comune di rinviare il trasloco al 2016 e chiede all'amministrazione di convocare un'assemblea per consentire a tutti gli ambulanti di esprimere la propria opinione. Il secondo intervento è invece del Comitato Vivere il Centro Storico, secondo il quale il mercato deve assolutamente lasciare Via dei Bacchettoni. Questa causa dell'impossibilità per i mezzi di soccorso di raggiungere le abitazioni dei residenti della zona, ma anche per il traffico che si produce a causa della chiusura delle strade e per le pessime condizioni igieniche dei bagni. Parliamo di arte e della mostra di un pittore di fama internazionale, ma originario di Lucca, che sarà aperta sabato prossimo. Aprirà sabato 19 settembre all'ex Casa del Boia la mostra di Lorenzo D'Andrea, il celebre pittore originario di Lucca, affermatosi ormai nel panorama artistico nazionale ed internazionale. Un'esposizione di alto valore culturale, perché rappresenta un viaggio alla riscoperta di tanti volti noti della nostra epoca. Saranno infatti esposti una lunga serie di ritratti di persone importanti della scena politica, culturale e religiosa della nostra epoca, dipinti da D'Andrea nel corso degli anni. Tra le opere esposte viene presentata in prima assoluta quella chiamata la Zattera dei Migranti, una tela di grandi dimensioni, due metri per cinque, che il pittore ha voluto mostrare per la prima volta nella sua città natale e che dopo l'esposizione lucchese partirà per una mostra itinerante che coinvolgerà numerose città italiane ed europee. Era tanto tempo che pensavo di fare una cosa che riguardassi i migranti, eccetera, Poi vedendo un giorno, riguardando la Zattera della Medusa di Jericol, da lì è partito, è scattata la scintilla. Ho dipinto questo grande quadro che ora girerà un po' per molte città italiane e poi anche in Europa, perché il tema dei migranti riguarda tutta l'Europa. Spero che questo quadro aiuti a risvegliare una coscienza, basta una. Nell'esposizione sono inserite anche diverse sculture dell'artista Nicola Domenici, originario di Viareggio, che opera tra la Spezia e Montpellier e la cui tecnica eclettica mira allo studio della luce sui differenti materiali come marmo, bronzo, resina, alluminio e carbonio. L'idea principale di Domenici è infatti quella di usare materiali contemporanei ed industriali abbinati a materiali più nobili, come ad esempio i marmi policromi o lo stesso bianco di Carrara. Il fallimento della Viareggio Patrimonio su questa delicata vicenda, il collega Massimo Mazzolini ha intervistato il sindaco di Viareggio, Giorgio Del Ghingaro. Noi stiamo lavorando proprio per salvare non tanto il contenitore quanto il contenuto e quindi i beni di proprietà della Patrimonio o avuti conferiti dal Comune o di cui ha la concessione, ma soprattutto i dipendenti, perché i dipendenti rappresentano persone, famiglie mutui da pagare. Noi lavoreremo intensamente per riuscire a salvare più posti di lavoro possibile. Questo è quanto ha riferito stamattina il sindaco Del Ghingaro prima dell'inizio della riunione con il curatore fallimentare dell'Avereggio Patrimonio, dottor Bonomo di Lucca. Non una parola di più da parte del primo cittadino, né sul futuro dei 63 dipendenti in forza alla partecipata del Comune, né sul futuro dei beni della Viareggio Patrimonio. Il messaggio è chiaro. Il destino della città versiliese e delle sue malconce partecipate, gestite nel peggiore dei modi, è solo in mano ai giudici del Tribunale. E non alla politica che con un solo colpo di Cimosa si è vista cancellare tutti gli interventi fatti lunedì mattina dai consiglieri comunali, convocati nell'Assemblea Cittadina per decidere se far fallire o meno l'Avereggio Patrimonio il cui debiti, si parla di 80-90 milioni di euro, non andranno comunque a finire nella massa passiva del dissesto comunale. In attesa che il sindaco Del Ghingaro, l'assessore Servetti, possano darci notizie più dettagliate sul futuro soprattutto dei dipendenti, la patata bollente finisce ora in mano del curatore fallimentare che avrà il compito di vendere quanto sarà possibile per pagare i creditori. Ha preso il via l'Associazione Industriali di Lucca, il workshop destinato alle aziende del territorio provinciale per presentarsi agli investitori cinesi. A seguito di una serie di contatti che la Fondazione Banca del Monte di Lucca ha da tempo instaurato con la Cina, è nata l'opportunità di far incontrare il tessuto economico con le sue aziende ad operatori cinesi. I lavori hanno toccato numerosi temi, tra cui l'attrattività delle industrie italiane rispetto agli obiettivi e ai metodi di valutazione dei cinesi, come sviluppare una transazione con un partner cinese, le principali differenze nel fare business in Italia e in Cina. Sono state anche presentate le esperienze dirette di alcune aziende cinesi e internazionali che operano in Oriente, interessate ad instaurare rapporti economici in Italia e anche a Lucca. Parte il concorso di idee per riqualificare il centro di Capannori. Grande partecipazione mercoledì sera ad Artè al convegno La Città del Domani, spazi e progetti per la rigenerazione urbana. L'iniziativa ha di fatto sancito l'inizio del concorso internazionale di idee per architetti il progetto Città di Capannori, il cui bando sarà pubblicato giovedì 15 ottobre. È la nuova fase del progetto per riqualificare il centro di Capannori, voluto dal sindaco Luca Menesini, che così spiega il suo obiettivo. Creare la città di Capannori significa trasformare Capannori rendendo spazi vivibili, spazi dove si vive bene, spazi dove diventa fruibile la mobilità, anche la mobilità pubblica, piuttosto che la mobilità leggera, dove c'è verde e dove ci sono spazi dove i cittadini si possono incontrare. Il convegno era promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con quello di Lucca e l'Ordine Provinciale degli Architetti. Alla serata, ben condotta dall'architetto Stefano Modena, dirigente dei servizi alla città del Comune di Capannori, sono intervenuti gli esponenti del gruppo G124, ovvero i giovani architetti di Renzo Piano, che hanno illustrato alla platea due innovativi progetti di rigenerazione urbana realizzati a Catania e a Roma, spiegando quali sono i punti di forza di questi progetti e qual è quindi l'opportunità che si apre anche per Capannori. I punti di forza sono unire un progetto di riqualificazione fisica degli spazi urbani, dei telai, del territorio, con un progetto sociale e quindi tendere a una città che recuperi una dimensione che sia più abitabile. Oggi il territorio è frammentato, è disperso, è difficile da vivere, ecco l'occasione che si apre da stasera è quella di ripensare tutti insieme, passo dopo passo, ad andare verso una città più facile dove stare. L'ASL 2 ha annunciato la partenza di Cardio 50, il programma di screening contro il rischio cardiovascolare rivolto a maschi e femmine nati nel 1964, residenti nel territorio di competenza della ASL. Parliamo di funghi, in Garfagnana, in attesa dei porcini, per il momento sono spuntati, sono nati molti grifoni. Come ogni anno, nel periodo a cavallo tra l'estate e l'autunno, si torna a parlare di funghi. Anche se la stagione dei porcini sembra ritardare, in Garfagnana stanno tornando a nascere i grifoni. Si tratta di una specie di funghi molto apprezzata dai ricercatori. Quelli che vediamo sono stati raccolti tutti da un unico cercatore, come ci conferma Piero Valdrighi, da anni commerciante di funghi. Certo, da anni non succedeva una cosa di abbondanza così, poi trovato da una persona sola. Arrivano dalla Garfagnana, quello di sicuro. Dove arrivano non dico a nessuno, anche perché l'accoglitore non vorrebbe mai che io dicessi dove è nato questo grifone. I grifoni possono anticipare la nascita anche dei porcini? Sì, io penso che fra una quittina di giorni arriveranno molti funghi porcini, anche perché un trovamento così non è semplice, vuol dire verranno fuori anche tanti porcini, ma bisogna aspettare che arrivi la stagione giusta, un po' di sole, un po' d'acqua, così. Davvero complimenti al cercatore che è voluto rimanere anonimo. Ma come si possono cucinare i grifoni? Allora quest'anno sembra una grande annata di funghi di grifone che è stato riconosciuto dalla regione toscana come stibile da non tanto tempo. Io consiglierei di cucinarlo sott'olio per mantenerlo e per servirlo insieme ad antipasti, altrimenti anche in umido o sempre in bianco facendoci delle tagliatelle. Chiudiamo con un appuntamento domani sera, venerdì 18 settembre, su Noi TV torna lo speciale TG Noi Dido. La puntata di domani sera, la prima della nuova stagione, sarà dedicata all'elezione del nuovo presidente della provincia. In studio ci saranno la presidente uscente Maura Cavallaro, la segretaria generale Paola Maria Lafranche, due candidati a presidente, il sindaco di Capannori Luca Menesini e quello di fabbriche di Vergemoli Michele Giannini. domande e commenti tramite sms al numero 360 10 38 330. Con questo è tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo con la pagina sportiva. Grazie.